Grazie. Proseguiamo a ritmo continuo. Il tema di mia competenza è il secondo, la guerra contro i civili. E mi è agevole riagganciarmi a quanto il collega amico Bruno Maida ha già detto, riprendendone alcuni aspetti e aggiungendone altri. Il tema ha una traccia molto ampia, non dico generica, ma generalizzante. Si presta, secondo me, a molte interpretazioni, il che è del tutto legittimo. La cosa che cautelativamente vorrei affermare in esordio è che proprio per questo ampio spazio, ampio vigore e ampie possibilità che il tema offre, c'è anche il rischio, per così dire, di deragliare fuori tema, andando a discutere o a impelagarsi su una riflessione sulla violenza che non riesce a cogliere invece quelle che sono le richieste che quantomeno implicitamente sono avanzate dalla traccia. Dico alcuni elementi in maniera molto tranciante perché poi in realtà le questioni aperte sono molteplici. Vedete poi scorrere il testo del tema medesimo e aggiungerò anche poi alcune immagini. Dico alcune cose molto generali e generiche dalle quali puoi partire per fare una riflessione più ampia nell'ambito del gruppo classe, insomma, nell'ambito di quanti saranno impegnati a lavorare su questo tracciato. Per una sorta di assonanza, ma non necessariamente di consonanza, il discorso sulla guerra contro i civivi richiama anche un altro elemento di fondo che sicuramente coloro che lavoreranno su questo tracciato quantomeno collateralmente incontreranno. Ed è il discorso sulla guerra civile europea. Ovvero sia, è un tema, è una questione molto ampia e molto complessa, anche molto delicata questa. Ma l'elemento dell'indanellamento, del legame tra guerra totale nei temi in cui Bruno Maida parlava prima e guerra ai civili, in qualche misura, dà la dimensione di, quantomeno quello che Brudel diceva, essere un ciclo storico che si è aperto, non sta a noi definire o decidere se si è chiuso o meno, ma che connota comunque dei trascorsi condivisi, non solo dal punto di vista degli eventi, ma anche dal punto di vista dei significati che a questi eventi diamo. Guerra civile europea, per l'appunto, è categoria molto problematica. Ci sono due interpretazioni correnti. Una è quella revisionista di Ernest Nolte che dice, in buona sostanza, la guerra si trasforma e diventa quella cosa iperbrutale nella misura in cui c'è l'intervento dell'evento, l'irruzione dell'evento rivoluzionario che muta completamente lo scenario. C'è invece un'interpretazione assai, dal mio punto di vista, più condivisibile e plausibile, che è quella avanzata da Enzo Traverso, che dice in buona sostanza che la guerra civile europea c'è e si dà nella misura in cui però non inizia col 1917 per finire col 1945, ma inizia nel 1914, quando la prima guerra mondiale viene proclamata e viene vissuta da subito come una guerra tradizionale, che verrà gestita secondo criteri di prevedibilità bellica e politica e si trasforma nel volgere di poco tempo, per un insieme di fattori, in qualcosa di molto diverso. Quando si esce dalla fine della prima guerra mondiale abbiamo una configurazione geopolitica non soltanto completamente diversa da quella di cinque anni prima, ma abbiamo un patrimonio, per così dire, di esperienze terribili che entreranno poi in gioco non solo nella seconda guerra mondiale a potenza ennesima, ma entreranno in gioco anche nel periodo che intervalla le due guerre, gli anni venti e gli anni trenta. Basti solo citare tra le tante cose che possiamo rilevare il fatto che, per dire, nella prima guerra mondiale si costituisce quella che i tedeschi chiamano una Kampfgemeinschaft, una comunità di lotta delle trincee, che è ad esempio un punto fondamentale nell'identità politica di molti attori del dopoguerra, a partire da due personaggi conosciutissimi come Hitler e Mussolini, per dire. Non è soltanto un fatto, badate bene, di identità personale, ma di esperienza che in qualche misura poi entra in gioco rispetto alle questioni di fondo che stiamo trattando. Ora, guerra totale vuol dire le cose che Bruno ha già richiamato, ma vuol dire anche qualcos'altro, ad esempio fronte interno e quinta colonna. La guerra non è solo quella che combatti tu contro qualcun altro divisibile che porta l'insegne, che porta i tratti, che porta i connotati della diversità e dell'alterità. La guerra è un elemento anche di purificazione interna. Allora, fronte interno vuol dire mobilitazione produttiva, è una cosa colossale a partire dalla prima guerra mondiale, vuol dire quinta colonna. Natta, il nemico ti ascolta, faccio presente che il termine quinta colonna viene utilizzato dalla guerra civile spagnola, in buona sostanza, quando uno dei generali rivoltosi, Mola, viene chiesto, ma lei con le sue quattro colonne di militari, come intende conquistare quella città? Lo farò grazie alla quinta colonna di chi sta dentro quella città e che lavorerà per me. Ora, in questo gioco c'è il superamento, è un effetto fondamentale, in quanto si andava dicendo, la separazione tra sfera civile e sfera militare. I civili vengono chiamati in causa, non solo quantitativamente, ma qualitativamente. Perché sono, da un lato, l'obiettivo precipuo di una parte, quantomeno, dei combattimenti. Perché non si vince tanto, la prima guerra mondiale lo dimostra, sulla scorta dello sfiancamento bellico, ma sulla base dello sfiancamento dei civili. Se i civili non mantengono il passo, non mantengono quel consenso, in termini di legittimazione, ma anche di partecipazione fisica, materiale e di corresponsabilizzazione, il fronte interno cede e di conseguenza anche il fronte esterno, quello combattuto, quello delle trincee, viene a mancare. Ci sono anche però altri elementi che entrano in gioco. Beh, se volessimo fare degli discursi storici, io penso a un fattore fondamentale che già precede l'esperienza napoleonica, va alla pace di Westfalia, alla formazione del sistema degli stati moderni, ma insomma non andiamo troppo indietro, e poi è la leva di massa. La leva di massa è un altro passaggio fondamentale, perché insomma il mestiere delle armi non è più qualcosa che è consegnato a un ceto, a una categoria, a un gruppo sestante, ma diventa un fattore di quel processo che verrà poi definito efficacemente da un grande storico come Mosse, di nazionalizzazione delle masse, cioè inserire le masse in una funzione sia pur, aggiungeremo noi, passiva, all'interno dei processi di stabilizzazione degli stati nazionali, in buona sostanza. Ottenere, potremmo anche giungere, carpire, ma comunque ottenere il consenso attivo e partecipato nella misura in cui questo consenso è indispensabile a, come dire, riprodurre la sovranità dello Stato, oltre che nel momento della guerra, riprodurre le condizioni e gli strumenti del confronto, del conflitto, possibilmente vittorioso. È evidente che colpire i civili da questo punto di vista diventa quindi fondamentale. Intanto noi misuriamo tra la prima e la seconda guerra mondiale una fortissima ideologizzazione del confronto bellico. Tutte le guerre hanno una forte connotazione, come dire, chiamiamola subculturale. Lo si va a vedere anche nel passato, si trovano elementi a far riguardo. Però questa è una guerra tra stati nazionali che diventa poi qualcosa d'altro, laddove per l'appunto l'ideologizzazione implica il fatto che non cerchiamo più la pace giusta, quella a nostro favore. Noi come belligeranti contro qualcun altro cerchiamo l'annientamento del nemico. L'annientamento del nemico presuppone non solo la vittoria sui campi di battaglia, ma in qualche misura un ridimensionamento sociodemografico dell'avversario, che a questo punto non è soltanto l'esercito, ma diventa la sfera civile in quanto tale. E subentra un mutamento di statuto, per così dire, dei civili e quindi del loro trattamento. Progressivamente, nella seconda guerra mondiale e poi nella guerra ad oriente se ne avrà una forma compiuta, paradigmatica. Ma già nella prima guerra mondiale alcuni elementi da questo punto di vista sono presenti. Il nemico diventa illegittimo, non è più l'avversario, ma è un nemico che in qualche misura si viene collocato nella sfera del non diritto. Non ha diritti, non ha soprattutto, in certe circostanze, il diritto essenziale e fondamentale, che è il diritto a vedere preservata la propria esistenza. Perché è parte del nostro progetto, è parte del nostro programma, scavalcare, scardinare, distruggere completamente gli assetti precostituiti, non solo conquistarli, ma mutarli annientandoli, in buona sostanza. Non è strane, ovviamente, a questo tipo di costruzione, laddove va detto al principio di legalità, cioè regole condivise, ci facciamo la guerra dentro un sistema di regole condivise, subentra un principio di legittimità che si autogiustifica, cioè ci conta il più forte. Le regole vengono meno. È il più forte che uno stato di eccezione permanente stabilisce quali sono le norme. E ancora una volta l'occupazione tedesca, soprattutto a Oriente, nel 1941-1944, è significativa. Conta, dicevo, all'interno di questo circuito, di questo sistema, dove si passa allo stato di eccezione permanente, il fatto che il nemico sia razzializzato, sia letto in termini etnici, sia letto in termini legittimanti prassi distruttive. E questo è un passaggio fondamentale. Noi potremmo intitolare questi tre percorsi tematici da Sarajevo-Sarajevo, dal 1914 agli anni 90, perché ci sono linee di continuità da questo punto di vista. Ora, la guerra contro i civili, la guerra contro i civili da questo punto di vista, perché ci rileva nella sua importanza? Cosa dobbiamo mettere in rilievo? Intanto è una guerra che non si basa solo sulla distanza, ma anche sulla vicinanza. Quando prima ho fatto una citazione in esordio sulla guerra civile europea, mi riferisco per l'appunto a questo dato. Le guerre civili, in senso lato, sono le guerre che non si fanno tra individui lontani, ma tra individui che sono vicini, in dato di prossimità. Questo elemento della visibilità, in qualche misura, diventa un elemento importante. Ci sei, ti elimino, perché ti identifico come tale. Entra il discorso rilevante, da questo punto di vista, della violenza rigeneratrice. Doppiamente rigeneratrice. Cosa vuol dire? Non c'è solo la violenza necessaria, quella che si svolge sui campi di battaglia, ma c'è la violenza che purifica. Che purifica, come veniva detto prima, poiché tutti sono attori in questo gioco, le vittime, che in qualche misura si tolgono, diciamo così, dall'orizzonte di riferimento, ma purifica anche gli esecutori, i carnefici, che in questo modo rivelano a se stesse di essere un passo in avanti rispetto alle vecchie formule umanitarie, per cui la guerra doveva essere fatta dentro criteri di legalità e non di stretti rapporti di forza. La violenza rigeneratrice è, insieme all'elemento della razzializzazione del nemico, un elemento fondamentale, perché se la concezione razziale dell'avversario, o comunque etnicista, dice al combattente che dinanzi a sé non ha un uomo o una donna come lui, ma ha un barbaro, e quindi è legittimato a farla crociata, la violenza rigeneratrice dice per l'appunto che la guerra ha una funzione superiore a quella della conquista fisica materiale, ha una funzione di trasformazione profonda, di equilibri di essetti anche morali e spirituali, e la violenza in questo ambito si giustifica allora da sé, come altro codice morale alternativo a quello preesistente che è fallito e di cui bisogna prendere, come dire, nota della sua sostanziale inconsistenza. La popolazione da questo punto di vista è di per sé un elemento tendenzialmente ribelle. C'è una violenza, richiamiamola così, contro i civili, che ha una natura pedagogica. Vi insegniamo che noi qui comandiamo. Guardate che non è una cosa così scontata nelle guerre, che si ricorra sempre comunque a questo tipo di funzionalità. Per esempio, l'occupazione tedesca nell'Italia, è stato citato prima Gabriele Agribaudi, a partire dalle strage che vengono fatte nel sud Italia dai tedeschi, subito dopo l'8 settembre, ha questo connotato, chiamiamolo così, rieducativo tra gli altri. Non è l'unico elemento. Ma, dinanzi a una politica di occupazione, che deve preservare il potenziale bellico italiano, utilizzandolo a favore dello sforzo militare tedesco, che deve controllare in maniera rigida le popolazioni, nella misura in cui ciò è funzionale, alla operatività delle truppe germaniche, che questo dato entra in gioco. E purtuttavia non è l'unico, perché la violenza contro i civili non è soltanto interpretabile come un elemento utilitaristico, come un elemento che possa essere letto in termini, diciamo così, di reattività. Anzi, molto spesso la violenza contro i civili non è una violenza reattiva, che risponde a qualcosa. E' una violenza anticipatrice. E' qualcosa che viene prima. E questo è un passaggio fondamentale. E questo venire prima sta nel fatto che, come dire, ha in sé una natura trasgressiva, come avrebbe detto Roger Caillois negli anni 30 e negli anni 40. Ad esempio, se voi andate a vedere proprio la dinamica dello svolgimento di certi crimini contro i civili, una qualche analogia con una festa vendicativa. Ad esempio, nei confronti delle popolazioni italiane che sono fatte oggetto di certi sant'anni e così via. Questo dato è presente, è molto forte. Non pensiate solo che sia, come dire, un sabba che si consuma nell'esasperazione, ma è non meno vero che la violenza contro i civili ha questo dato di effervescenza collettiva per parte dei carnefici che possono liberare quello che dal loro punto di vista è l'aspetto, diciamo, più combattente, più aggressivo e più determinato nei confronti di qualcuno o di qualcosa che è visto come un oggetto nemico per il fatto stesso di esistere. Nella violenza contro i civili l'odio perde il suo carattere astratto. Da risentimento ideologico formulato da una qualche cancelleria e da degli accademici e da qualche comandante di reparto diventa invece una sorta di pulsione concreta che giustifica il passaggio all'atto. Per riequilibrare le tensioni all'interno di certi reparti in certe condizioni il potersi esercitare contro i civili indifesi è un ottimo elemento di stabilizzazione in qualche misura. Siamo al di là della linea di divisione del bene e del male ma appunto parliamo di un contesto dove si sono abbondantemente superate queste linee di divisione. Il punto è che la violenza contro i civili lega due elementi nel novecento l'emergere e il soddisfacimento del pari di pulsioni profonde e dall'altro lato però anche un ricorso a una violenza tecnologica sistematica che è in assoluto accordo con la dimensione della modernità coniugando modernità e barbarie in maniera molto secca e molto netta. Vado alla conclusione perché ci siamo prescritti dei tempi molto stretti e in realtà si aprono molte finestre di riflessione che magari in altra sede potremo riprendere a quei gruppi classe o laddove sarà appropriato e opportuno facendo anche un'altra citazione quella di Sergio Luzzatto la tragedia corporale la violenza contro i civili e aggiungo anche categoria da utilizzare sempre con cautela ma non con troppa inibizione la guerra civile come un surplus di tragedie corporali di visibilità dei corpi guardate bene che nelle violenze contro i civili nel novecento l'assassinio assai l'assassinio di massa del tutto non solo ingiustificato ma belluino e quant'altro è esibito come una vittoria personale come un atto di cui in qualche misura menare anche un qualche vanto non è omesso non è nascosto se fosse omesso e fosse nascosto da questo punto di vista non assolverebbe quella funzione che raccontavo prima quella funzione di festa della vendetta collettiva per così dire e allora l'esposizione dei corpi diventa un altro elemento fondamentale come anche la certificazione che ci ha avuto il coraggio di fare alcune cose contro i civili indifesi pensate è solo una minima parte il repertorio il registro di immagini che l'occupazione tedesca dell'Europa orientale tra il 41 e il 44 ci consegna pensate ad esempio alla tripartizione che si riflette in un'immagine come questa tra le tante possibili e che Raul Hilberg storico di Vaglia aveva messo in un indietro tra tre figure fondamentali in queste dinamiche di guerra civile europee cioè carnefici vittime ma anche spettatori fra l'altro queste non sono foto comandate molto spesso sono foto fatte da coloro che assistevano e che vedevano quanto stava avvenendo che registravano quanto stava succedendo magari spedendole poi a casa così si sono recuperate in buona sostanza allora l'elemento della guerra contro i civili richiama anche proprio l'elemento della tangibilità dei corpi della violenza fisica della violenza prevaricatoria contro il corpo in quanto tale che è un altro aspetto su cui in termini non multi ma interdisciplinari come giustamente veniva detto già da tempo la storiografia si sta esercitando andiamo in un ambito diciamo così antropologico ma è un ambito che io non escluderei nel momento in cui dovessi affrontare questo secondo tema con la mia eventuale classe ecco non è facile da gestire però è un passaggio importante si può partire ad esempio da delle immagini da delle foto per evitare di fare il racconto di un atto di violenza con come si concede a questa libertà di giudizio da parte mia la fase finale del tema in cui si esercita un'esecrazione che come dire è assolutamente condivisibile ma che non dice assolutamente nulla rispetto a ciò che si vorrebbe comunicare col tema medesimo e col lavoro fatto in classe ultimo elemento che lancio tra le tante cose che mi sono venute in mente è quello che Zygmunt Bauman chiama la produzione sociale è indifferenza morale che è un aspetto che è fortemente presente dentro il tema della guerra contro i civili della violenza sistematica contro i civili dei progetti del nuovo ordine europeo che ridisegnavano su un piano socio-demografico gli assetti a venire del continente europeo in quanto tale direi che gli elementi la carne al fuoco è tanta e posso quindi passare adesso a chi come amico Riccardo Marchi si soffermerà su Da Shoah la parola e quant'altro grazie a tutti